L'era dei fondamenti, Kahlia, il frammento del caduto, il numero uno della nuova serie da edicola targata Bugs Comics. Wabalabadabdabe bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Bugs Comics che fino ad ora andava a coinvolgere solamente tutto ciò che riguardava Samuel Stern, apro parentesi, a breve parlerò anche dell'extra, chiusa parentesi, ma da oggi parlerà anche di Kahlia. Non so se avrà una rubrica tutta sua Kahlia perché, come ho già detto più volte in passato, io non sono un grande amante del fantasy su fumetto. Io adoro Il Signore degli Anelli, il libro, il film, adoro un po' meno Lo Hobbit, il libro, il film, Sto leggendo Il Sim Marillion, ho adorato la serie tv di Rings of Power, nonostante sia un po' poco coerente magari con gli scritti, ma sti gran cazzi. E mi piace anche il fantasy un po' più basso, Game of Thrones, House of the Dragon, ma passando anche per Fantagiro e tutti quei prodotti anni 90, Dragonheart, eccetera, eccetera. Però, per esempio, io non ho mai letto Dragonero, che secondo me è anche un punto di vista fondamentale per potermi confrontare con un altro fumetto fantasy. Quindi, con questo grosso preambolo, questa grossa premessa, prendete per quello che è la mia opinione su questo fumetto. Prima di cominciare vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che ve frega, di condividere il video con tutte le persone che sono di razza elfica o gialdet o orchesca o nanica o che ne so, e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo primo numero e, se magari lo avete letto, io lo sto leggendo anche del libro Theia, che potete trovare in fumetteria, in libreria, credo, sul sito della Bugs Comics, che trovate sempre in descrizione insieme al fan club Sterniani. e avete potuto trovare Alucca Comics. Per esempio, questa è la Variant Bianca, che è stata personalizzata, disegnata da Randazzo. Vi ricordo di seguirmi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram, TikTok e Twitch. Su Twitch, tra l'altro, faremo una live settimana prossima, proprio su Calia, su questo primo numero uno. Non so ancora il giorno preciso, quindi state sintonizzati su Instagram, perché lo dirò lì. Il ritardo dovuto alla recensione di questo numero è anche dovuto al fatto che volevo leggermi tutto Theia prima di iniziare Calia, però la curiosità ha avuto un po' la meglio, quindi diciamo che al momento sono a metà di Theia, sono arrivato fino alla razza dei Jaldest, sono molto interessato anche alla razza degli orchi, che finora sono forse i primi orchi non glabri, a esclusione dei capelli, che vedo in un'opera, e quindi sono molto contento che gli orchi abbiano un po' di peli qua e là. Sono curioso anche di vedere un po' tutte le altre razze, come interagiranno in questa terra chiamata Theia, dove appunto si muove Calia. Devo dire appunto, dal momento che non so bene come funzionano gli altri fantasy a fumetti, quello che io mi sarei aspettato dal numero uno di Calia sarebbe stato vedere Calia. Quindi una piccola premessa, questo numero uno non mi ha coinvolto, non mi ha rapito, come per esempio il numero uno di Samuel Stern, anche se c'è da dire che io Samuel Stern l'ho iniziato dal numero due, quindi chi lo sa il prossimo numero di Calia se mi coinvolgerà. Nonostante le premesse iniziali e la nota in seconda di copertina di Luca Lamberti, che mi ha davvero quasi commosso, diciamo, mi è piaciuta la sua idea, la sua ispirazione per Calia, mi è altresì dispiaciuto non incontrare Calia fino a pagina 30 di un fumetto di 90 pagine. Quindi per un terzo esatto del primo numero noi vediamo per le prime dieci pagine un pochino tutta la storia, diciamo un po' tutta la Bibbia, la narrazione storica di Teia, che però avevamo già visto sia nel numero zero che per carità, non tutti hanno. Quindi chi lo piglia in edicola, proprio perché così lo pesca e vuole scoprire questo mondo, chi lo piglia in edicola non ha il numero zero, chi lo piglia in edicola non sa che cos'è, quindi non è andato a recuperare Teia. Però proprio per questo, una persona che lo prende in edicola dovrebbe essere più invogliata, più facilitata a entrare in questo mondo, venendo imboccata pian pianino con tutto quello che ne fa parte. Mentre qua partiamo proprio dal macro racconto per poi andare nel micro racconto di Calia e l'incontro con i comprimari. I comprimari tra l'altro che anch'essi appaiono prima di Calia, quindi abbiamo dieci pagine buone di racconto della storia di Teia, poi abbiamo quindici pagine dove ci mostrano i comprimari Lina e Aridan, e poi solo appunto a pagina 29-30 arriva Calia. Ecco, io non so per quale motivo, ma per associazione di idee, anche perché Calia si trova, non è un grosso spoiler, si trova in una stamberga nel sottosuolo, in quella che presumibilmente sono delle scommesse clandestine a fare abbraccio di ferro con un tizio. Quindi mi dà proprio l'idea di... mi è venuto in mente Disincanto, mi è venuto in mente la principessa Tiabini, e mi è venuto in mente come in quella serie si parte proprio da lì, si parte proprio dal basso, dai sobborghi, si vede questo contesto molto piccolo, molto urbano, e poi da lì ci si espande verso il resto del mondo. Ecco, io avrei preferito un approccio di questo tipo, anche perché con tutto l'hype che mi ha generato l'attesa, cioè che mi ha generato questo fumetto, tutta l'attesa, tutto l'hype che avevo per questo fumetto, e mi sono affezionato a Kalia, e dover aspettare 30 pagine per vederla mi è dispiaciuto, anche perché quando, tutte le volte, tutte le scene in cui Kalia c'è, le ho apprezzate tantissimo, io ne voglio ancora di Kalia, quindi sicuramente acquisterò il numero 2, e voglio vedere se questa premessa iniziale, che mi ha un po' destabilizzato, è dovuta proprio al fatto che è un numero molto introduttivo, è un numero zero per chi non ha il numero zero, e quindi, per carità, voglio vedere se nel numero 2, dove magari non c'è così tanto preambolo, potrebbe appunto coinvolgermi meglio, perché poi comunque la storia, la storia di Theia mi sta interessando tantissimo, ed è proprio questo che intendevo con le persone che arrivano in edicola, magari vogliono un approccio più terra-terra, prima di entrare in un mondo così, la persona, secondo me, da edicola, va trattata in modo molto semplice, perché potrebbe essere la persona che prende un fumetto, perché non sa cosa leggere, e poi non lo piglia più, Se invece si appassiona, sarà poi la persona stessa a cercare il libro di Theia, a cercare magari il numero zero, ammesso che si trovi ancora sul sito della Bags, e così via, no? Invece una persona che magari lo legge tanto perché vuole passare mezz'ora, un'ora del suo tempo, magari in pausa pranzo, così, questa prima parte può essere un po', come si dice, può allontanare, un pochino lo spettatore. Ecco, tutto qua. Per il resto, i personaggi mi sono piaciuti molto, mi è piaciuto vedere come gli elfi, fondamentalmente, siano i cattivi, che non è, diciamo, la prima volta che l'elfo è associato a un personaggio ambiguo, perché comunque non sono puri, come ci ha mostrato Tolkien nei suoi libri o nella trilogia di Peter Jackson, sono un po' più... hanno sempre avuto la superbia dalla loro parte. Qua si vede che sono anche proprio corrotti. In un certo senso non esiste più un elfo non corrotto, come Teia stessa mi ha confermato, la loro maschera è dovuta anche al fatto che sono fisicamente corrotti dal morbo pallido. C'è tutta una storia dietro che si scopre in Teia che è molto interessante. Quindi ecco, tutte queste cose mi fanno venire voglia di continuare. Mi fa un po' strano che mi fa venire più voglia di continuare questo che non il primo numero. Però ecco, il mio giudizio quindi per ora è sospeso, è sospeso e rimandato al mese prossimo. Posso dire che appunto per buoni due terzi di questo numero la storia è promossa. Peccato che sono il secondo e il terzo atto, non il primo. E lo so, il primo atto di un primo volume dovrebbe coinvolgermi, dovrebbe rapirmi di più. Però, ripeto, come ho detto all'inizio, io non sono un fautore di fumetti fantasy e soprattutto ci tengo a dirlo, anche se lo sapete già, non sono un fautore di manga. Dal momento che questo fumetto ha un taglio molto giovane, guarda molto i giovani, magari ha un'impostazione più manga da questo punto di vista. Cioè dove prima ci presenta il mondo e poi lo va a esplorare. Io questo non lo so. Sta di fatto che, non sono magari neanche in target dal momento che non sono più giovane, sta di fatto che però appunto mi ha un po' destabilizzato all'inizio. Però l'ho già detto tre, quattro, cinque volte, non è inutile ripetersi. Come ho già detto già quando lessi il numero zero, per ora il mio personaggio preferito potrebbe essere Aridan, però attendo di vedere futuri personaggi, e attendo di vedere magari qualche orco che potrebbe piacermi di più. Senza dubbio Kaliya è fantastica. Mi piace un sacco. Mi piace il suo carattere. Non che fosse un segreto, cioè il suo carattere traspariva da come era disegnata, il suo carattere traspariva un po' da come è stata presentata. Quindi ecco, non sono stato smentito in quello che ho visto. Per quanto riguarda le tavole, dato che è il primo numero, volevo anche parlare un po' di tavole, direi che linea di massima mi piacciono molto, hanno alcune tavole, hanno un taglio anche molto classico, poi ci sono delle splash page molto molto interessanti, cioè il taglio moderno, la Bugs Comics, si percepisce tantissimo. C'è solo una tavola che mi ha un po' confuso all'inizio, ma è proprio penso dovuto a una cosa di impaginazione, poi correggetemi se sbaglio. Questa qui, che non so dirvi che pagina è perché è tutta... La pagina 18 e 19, sono due, cioè non è una splash page, sono due. Ok, però non essendoci qua, la colonnina bianca, sembra continuativa. Cioè noi capiamo che non è continuativa perché il personaggio è in entrambe le tavole. Però ecco, lì per lì mi ha un po' destabilizzato questa cosa. Avrei preferito uno stacco tra le due perché è tanta roba, cioè fisicamente è tanta roba da leggere, da assaporare tutt'assieme perché è tutto disegno in realtà, non ci sono baloni in questa tavola. Però a colpo d'occhio sembra un'unica splash page, quindi ti viene anche da leggerla in questo modo. e invece sono due pagine separate, tutto lì. Quindi c'è stato solo un po' questo che mi ha un po' destabilizzato dal punto di vista delle tavole, poi tutto il resto, anche le tavole che avevamo un po' già visto in anteprima, sono davvero fantastiche. Mi piacerebbe un giorno vederlo, chissà, magari anche a colori, non per forza il numero uno, ma in generale vedere alcuni numeri a colori, soprattutto laddove si entra in territori modificati, adulterati dalla caduta dei fondamenti. I fondamenti hanno, diciamo, intaccato il terreno dove sono caduti e un paio sicuramente intaccano il terreno anche dal punto di vista dei colori. C'è tutta una zona, la zona elfica ha tutte le alghe rosse, c'è un'altra zona che ha della vegetazione color violetto, se non sbaglio. Sarebbe bello da vedere anche a colori questa cosa, prima o poi. Chiuso a parentesi. Quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo primo numero, se vi ha convinto, se non vi ha convinto, se in ogni caso prenderete il numero due per vedere un po' la fine di questo primo arco narrativo e se siete interessati a prendere magari anche teia e anche il numero zero, che ripeto, magari è introvabile. Però comunque fatemi sapere qua sotto quanto vi ha coinvolto il primo numero. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto. Vi dico arrivederci al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.